Arriva un nuovo albero di Natale e con lui tante polemiche, come quella della Cisle di Fano, che si dice profondamente sconcertata per la spesa di 21.000 euro che il Comune intende sostenere, mentre tutte le risorse disponibili andrebbero utilizzate per contrastare la povertà e le marginazioni. Il sindacato chiede pertanto al sindaco Massimo Seri di utilizzare la somma per incrementare la spesa sociale. Meglio una città più solidale, dicono, con meno famiglie e persone marginate, che un albero di Natale in piazza. Secca la risposta del primo cittadino. Ogni volta che si fa una buona cosa c'è sempre qualcuno che deve aprire una polemica. Allora, intanto spieghiamo giustamente ai cittadini che devono avere le idee chiare. Non si spendono 21.000 euro per tutte le attività del Natale. In realtà poi l'importo complessivo è maggiore, dove ci sono il contributo dei privati, dei commercianti, però la quota che l'amministrazione mette a disposizione per le attività, come l'anno scorso, è di 20.000 euro. È una cifra molto modesta rispetto anche a tante altre amministrazioni, ma mi fa specie che venga fatta una previa come questa da un sindacato che tutela i lavoratori. Qui dobbiamo tutelare anche chi fa attività, le attività produttive, il commercio. In difesa dell'amministrazione comunale è intervenuta la Confcommercio. Secondo il segretario di zona, Francesco Mezzottero, la protesta della CIS è una polemica politica. È precisa che nel bilancio di 60.000 euro previsti per le festività natalizie rientrano alla festa dell'Epifania, quella per l'ultimo dell'anno, gli spettacoli a teatro, il mercatino di Natale e l'illuminazione del centro e dei quartieri. Ricorda inoltre che l'albero di Del Signore è riutilizzabile perché artificiale ed è stata abbracciata la filosofia di una città che ricicla, che non spreca e che è solidale. Il botta risposta però non è finito qui perché il responsabile del sindacato fanese, Giovanni Giovanelli, ha replicato dicendo che nessuno vuole essere protagonista. Il nostro intervento, precisa, è scaturito da diverse considerazioni, visto al dato della povertà e dell'emarginazione sociale dovute alla crisi economica in continuo aumento. E al posto di mettere risorse a disposizione del fondo anticrisi, ha concluso il comune, stanze ai soldi per l'albero e le luminarie. Vi immaginate un centro storico senza un addobbo, senza un'attività? Cosa sarebbe?